calinnia 27 luglio 2019 giornata così e così nuvoloso il sole era nascosto dietro le nuvole e raramente faceva capolino facendosi intravedere dietro le nuvole nonostante questo il mare era diciamo con acqua calda leggermente increspato facendo attenzione alla risacca si poteva fare un eccellente bagno c'era qualche medusina a volte rossa di bella cipolla ma comunque nonostante l'acqua fosse un pochino torbona per via che era un po agitata per il resto diciamo era bagno splendida giornata di mare poi ad un certo punto ha cominciato a tonare in lontananza sembrava venisse giù la fine del mondo con un nuovo diluvio sono tutti scappati e poi invece ha fatto due o tre gocce d'acqua e poi è rispontato al sole